Una sosta molto inattesa questa dovuta al contagio da coronavirus, il campo basso, lei come la prende? Sì, sicuramente non bene, un allenatore quando deve avere la scuola ferma sotto l'aspetto anche mentale non è mai positivo, però bisogna tenersi a quelle che sono le decisioni e quelle che sono sicuramente l'aspetto sanitario, l'aspetto fisico individuale, quindi è anche giusto che sia così, per quanto riguarda l'aspetto lavorativo sicuramente non è facile tenere alta la tensione in un campionato dove eravamo increscendo o stiamo increscendo, quindi cerchiamo di fare il massimo e poterla tenere alta, però come ho detto bisogna rimanere sempre concentrati e chiedo massimo impegno nei allenamenti al di là della sosta, quindi è giusto che sia così anche se capisco che spesso volentieri non è facile. Torniamo al campionato, 18 gare utili, 13 vittorie, 5 pareggi, è una mole di punti e di fronte 8 gare fino alla vostra speranza, la vostra meta sperata che è la vittoria del campionato, quindi evidentemente non bastano solo queste gare utili, queste 18 gare utili che sono già di per sé un bottino incredibile, come commenta con i suoi giocatori tutto questo? Ma commentare neanche più di tanto, abbiamo analizzato che sicuramente solo questo tipo di percorso forse ci poteva portare a rientrare nella bagarre per i quartieri alti della classifica, quindi di questo ne siamo orgogliosi, ne siamo contenti, però ci ha avvicinato, ma la vetta è ancora lì a portata di mano, è iniziato un campionato nostro due partite fa, quindi ora siamo a tre punti, dobbiamo ragionare partita per partita, quindi la concentrazione per questo deve rimanere sempre alta. Lo stimolo in più che l'ambiente in questo momento ci sta dando deve essere uno stimolo che ci deve dare carica, quindi questo è il quanto. Per il resto se non avessimo fatto questo tipo di percorso, che forse era impensabile anche ai migliori ottimisti, eravamo qui a commentare qualcosa di obiettivo diverso, però ne siamo orgogliosi e sicuramente fino alla fine saremo lì a giocarci. In effetti è come dice lei, perché poi subentra anche la matematica. Ad un certo punto lei circoscrive la lotta per il primato al campo basso al Matelica, anche per un fatto mentale, mi riferisco al notaresco e al recanatese, che insomma incappano in risultati negativi e il campo a dirlo, quindi ci siete solo voi due, secondo lei o è a quattro la lotta? No, credo che sia aperta le quattro scuole di testa, al di là di tre punti avanti o tre punti indietro, quindi il campionato è talmente insidioso domenica per domenica che può ribaltare qualsiasi cosa. La continuità, come ho già detto, farà la differenza. Noi stiamo avendo una grossa continuità, quindi ci ha portato a star lì, però credo che sia il notaresco che ora abbiamo ripreso a distanza di 14 punti, se non sbaglio, di quando eravamo andati a giocarci a sconto diretto lì, e sia la recanatese che ha perso domenica scorsa, ma credo che hanno tutte le carte in regola per potersela giocare fino alla fine, al di là di tre punti in meno o della parità di punti. Sicuramente il nostro in questo momento può essere un aspetto mentale, un'inerzia positiva su questo campionato, però la sosta forse azzera un po' tutto e quindi si riparterà tutti alla pari. Un'ultima cosa, facciamo un piccolo gioco, non so se le toglierebbe un giocatore in particolare al Matelica, probabilmente l'allenatore del Matelica toglierebbe Danilo Alessandro, forse Cogliati, lei toglierebbe un giocatore al Matelica per questo rush finale, queste otto giornate di campionato? Individualmente, sinceramente no, il Matelica ha dimostrato di essere una solita squadra di gruppo, al di là di individualità, quindi togliere un singolo giocatore sarebbe riduttivo, anche perché hanno una grossa solidità difensiva, hanno un'ottima fase offensiva, quindi togliere davanti o togliere dietro sarebbe un po' riduttivo, quindi sicuramente non perché l'ha avuto, ma credo che Moretti possa essere un ago della bilancia importante per loro, al di là della quantità, della mole di gioco che fa e anche della qualità che in questo momento sta avendo anche sottoporta.